Buonasera, buonasera a tutti, io sono Simone Politi, il direttore di Queen News. Sono qui per presentarvi l'uscita di domani, quindi di mercoledì 6 dicembre. Verrà distribuito anche nella giornata di giovedì il nostro 17esimo numero. Eccola qui, ve la mostro, la copertina del numero di domani. Su Capena abbiamo seguito da vicino il Consiglio Comunale, ci sono delle novità molto molto interessanti. Su Poggio Mirteto invece, altra situazione, abbiamo scambiato due chiacchiere con il sindaco Giancarlo Micharelli. Abbiamo affrontato il discorso delicato della crisi dei commercianti, quindi dei negozianti di zona. Su Fiano Romano invece abbiamo offerto un piccolo focus sulle fototrappole, ormai utilizzate già da un paio di mesi. E infine su Farasabina un argomento molto più delicato. Abbiamo trattato con foto e testimonianze anche il massacro di Canneto, una memoria storica, un evento che in pochi purtroppo conoscono. E quindi questo è il nostro nuovo numero. Non mi rimane che salutarvi, augurandovi una buona lettura con Queen News. Un saluto da parte mia e da tutta la redazione.